Giulio Ettore ritorna dopo la parentesi Covid che ha coinvolto un po' tutti, il Memorial della Penna, ottava edizione, dedicato ai ragazzi dal 2009 in giù, un evento importante per la città di Giuliano e anche per il calcio regionale. Sì, per fortuna torniamo dopo due anni di stop forzato per il discorso Covid, siamo all'ottava edizione, da quest'anno le novità importanti sono che partecipano diverse squadre professionistiche tipo Ascoli, Pescara, Bologna, Sampdoria, Parma, Avellino, insomma abbiamo cercato di alzare un po' il livello tecnico del torneo anche se comunque parliamo sempre di ragazzini piccoli, come dire, la cosa più importante è che si divertano. Assolutamente anche perché veniamo da un periodo recentissimo in cui anche le disavventure della nostra nazionale ci hanno portato a ragionare sul futuro del calcio italiano partendo proprio dalla base, come sta la base? La base, almeno vedendo i risultati della nazionale, come dici tu, non sta benissimo, sarebbe il caso di rifondare tutto da sotto, però non è un'operazione semplice, è un'operazione che secondo il mio piccolo e modestissimo parere ha bisogno di anni di programmazione e di lavoro. Senti, tornando al memorial della penna, innanzitutto spieghiamo il perché è intitolato a della pena questo memorial. Io penso che Emilio della penna per Giulianova sia la storia del calcio giuliese, perché ha giocato, poi ha allenato a livello di settore giovanile nel nostro piccolo palmarès giuliese di 10 scudetti vinti a livello nazionale, lui ne ha 25 come mister. E poi è stato il primo a creare la scuola calcio, da cui sono passati tanti e tanti ragazzi dal 1983. Abbiamo, come ho detto, da quest'anno invitato queste squadre importanti, tipo la Sampdoria, il Bologna, il Parma, il Lavellino, oltre a quelle locali che ci hanno sempre sostenuto, tipo il Pescara e l'Ascoli. Quindi, appunto, per cercare di far confrontare i nostri ragazzini, anche quelli che in questo momento sono nelle società dilettanti, con realtà diverse e che possono essere da stimolo per andare avanti. I luoghi dove si giocherà? I luoghi Giulianova e Albatriatica. Abbiamo, dico Giulianova e Albatriatica, su tutti i campi perché, per fortuna, siamo quasi a 150 squadre. Quindi si giocherà in tanti impianti sportivi nelle due cittadine. Il centro, comunque, del torneo sarà Giulianova. Volevo ringraziare anche, colgo l'occasione per ringraziare Gianpaolo Morsa, con cui collaboro dal 2019, dalla scorsa edizione, perché senza la sua organizzazione, che lui è presidente della Sporting Tour, certo da soli non ce l'avremmo fatta ad organizzare tutto questo.